Mi dispiace così tanto Sono sempre stato un piagnucolone Non è vero Link Lo so Non sei davvero Link Dico bene Link non c'è più da molto tempo Qual è il tuo nome? Frisk È un bel nome Frisk Non mi sento così da molto tempo Quando ero un fiore non avevo anima Non avevo la capacità di amare altre persone Comunque con le anime di tutti dentro di me Non solo ho di nuovo la mia compassione Ma posso sentire anche quella di tutti gli altri mostri Si preoccupano così tanto l'uno dell'altro E Si preoccupano anche per te Frisk Vorrei poterti dire cosa provano tutti per te Papyrus Sans Undyne Alphys Torian I mostri sono strani Anche se ti conoscono a malapena Sento che ti amano davvero tutti quanti Frisk Io Io lo capisco se non puoi perdonarmi Lo capisco se mi detesti Ho agito in maniera così strana e orribile Ti ho ferito Ho ferito così tanta gente Amici Familiari Sconosciuti Non ci sono scuse per ciò che ho fatto Ma vi pare che non lo perdono? Però adesso capisco Perché nelle cassette c'era il nome di Link E quindi Link non era il nostro vero nome ma è Frisk Quindi è tutta una bugia Però adesso capisco Alcune cose Quindi C'è un altro personaggio in realtà Un altro In nome del primo umano quindi In realtà In questa linea temporale Quella dove gioco io è Link Se no in realtà quale sarebbe Però comunque sia dopo Mi vado a cercare tutto quanto Se è necessario per un completismo Fare anche la Genocide Nel caso fare la Genocide serve per completismo Proverò a vedere di farla in qualche modo Anche se Dopo tutto questo Non è che mi Vada molto Cosa? Frisk Andiamo Mi farei piangere di nuovo E poi anche se mi perdonassi Non posso tenere queste anime dentro di me Il minimo che posso fare è restituirle Ma prima C'è qualcosa che devo fare In questo momento posso sentire i cuori di tutti battere all'unisono Ardono tutti con lo stesso risiderio Col potere di tutti Con la determinazione di tutti E' tempo per i mostri Di essere fidelmente liberi La barriera è stata E' stata distrutta E quindi ora tutti quanti in superficie vanno Frisk Devo andare adesso Senza il potere delle anime di tutti Non posso mantenere questa forma Tra non molto Tornerò ad essere un fiore Smetterò di essere me stesso Smetterò di nuovo di poter provare amore Quindi Frisk E' meglio se mi dimentichi E' meglio se mi dimentichi e basta Ok Va a stare con le persone che ti vogliono bene Con... Ma certo che lo consolo Non voglio lasciar andare Frisk Frisk Tu Tu farei un ottimo lavoro Ok? Non importa cosa farai Tutti saranno lì Tutti saranno lì per te Ok? Beh... Il mio tempo sta per terminare Addio Comunque Frisk Prenditi cura di mamma e papà per me Ok? Frisk Questo è solo Un brutto sogno Ti prego Svegliati Oh Hai aperto gli occhi Grazie al cielo Eravamo così preoccupati Sembrava che non ti svegliassi più Sì Un altro poi avrei dato di matto La prossima volta che ti fai un sonnellino Faccelo sapere Ok? Già Hai fatto piangere papà irus Come un bambino Cosa? Non ho pianto Io non piango Mi è solo entrato qualcosa nell'occhio Che cosa ti è entrato? Lacrime Su Su La cosa importante è che Frisk stia bene Ecco Frisk Perché non bevi un po' di tè? Ti farà stare meglio Che niente di lasciare respirare Frisk prima? Deve essere a pezzi Anche se per quale Che motivo Non ne sono sicura Frisk Non ci ricordiamo bene Che cosa è successo C'era un fiore E poi Tutto è diventato bianco Ma adesso La barriera è sparita Quando te la senti Torneremo tutti alla superficie Sembra che la porta est Ci porterà All'aura Ma prima Forse vuoi farti un giro? Puoi dire a tutti i tuoi fantastici amici Fai come preferisci Noi ti aspetteremo tutti qui Allora Perché ora mi chiamano Frisk? Perché mi chiamano Frisk ora? Non ho ben chiaro il motivo Oh gli uccellini Senti Ma a chi devo dire addio Di grazia? Perché qua sotto Dicevo prima Ci sono sei bare Che contengono le anime Ma sono le anime Dei nostri amici Quelle che sono qui O sono tutte vuote Eh sì Ci sono come delle Bende da mummie sul fondo Oh mio dio Mamma mia ragazzi Quanta lore c'è qua dietro Sto gioco ha una valanga di lore Improponibile da Da trattare Mi vedrò sicuramente dei video Se decido di non fare la genocide Devo Devo decidermi a cosa fare Non lo so Davvero non ne ho idea Non so neanche se si può Davvero andare in giro Come voglio Chi devo salutare Beh ci sarebbero delle persone Amiche da salutare In effetti Tutti quanti stanno parlando Del fatto che se ne andranno E che andranno a vivere In superficie Che bella cosa Libertà Vediamo un po' che dicono loro due Cioè siamo tipo liberi adesso eh Già tipo proprio libere Tipo fico Già tipo fico Tipo i mille anni Del brigionamento Sono finiti Già è tipo abbastanza ganso Immagino Ok Ci vediamo allora Ragazze E loro Ok lui vuole andare in superficie E loro due Andangelo formato Guardi l'area sciolta Pace ok Sembra felice ok Ah maffet Ho appena finito di fare La somma di tutte le donazioni Abbiamo finalmente raccolto abbastanza Per salvare i ragni dentro le rovine Potremmo permetterci Quattro paia di occhiali Da soldi alla moda Per ogni ragno Oh Che bello Avrei dovuto Di pantaloni Metterne su di più Su alcuni milioni Ok No sto parlando un po' con tutti Per capire Insomma come la pensano Voglio Vedere Andare in giro Parlare con tutti Poi magari non metto tutto quanto Nel video Però Voglio comunque farlo Questo qui Oh eccolo finito Il lupo del ghiaccio Non deve più lanciare ghiaccio Il lupo del ghiaccio Adesso può fare una pausa Per comprarsi dei pantaloni Poverino Siamo liberi Finalmente Riuscirò a smettere di sorridere Cosa? Pare che non debba più Preoccuparmi di fare battute Stavo per fare una battuta adesso Ma la verità è che Non me ne vengono in mente Se ne vanno tutti eh Era ora Finalmente adesso potrò avere Un po' più di pace e silenzio Forse Chi lo sa Ma la porta qua giù Alla fine è stata aperta? Cioè questa qua Rimane chiusa per sempre? È una porta Eh Ho capito ma Ah Puffa Oh ancora qui? Stai cercando di farmi compagnia? Frisk? Ehi, lascia che ti chieda una cosa, Frisk. Perché venire qui? Tutti conoscono la leggenda, giusto? I viandanti che scalano il monte Ebbott si dice che scompaiono. Frisk, perché mai avresti scalato una montagna come quella? È stata stoltezza? È stato il destino? O è stato perché tu? Beh, solo tu conosci la risposta, vero? Io so perché Link ha scalato la montagna. Non è stato per un motivo molto felice. Frisk, sarò sincero con te. Link odiava l'umanità e per qualche ragione non ne ha mai parlato, ma certo era che la odiava veramente tanto. Frisk, tu sei davvero diverso da Link. Infatti, anche se voi due avete lo stesso modo di vestire, non so perché mi sono comportato come se foste la stessa persona. Forse la verità è che Link non era davvero una buona persona. Invece tu, Frisk, sei il tipo di persona con cui ho sempre voluto essere amico. Quindi forse stavo proiettando un po'... Diciamocelo, ho fatto un sacco di stramberie come fiore. C'è un'ultima cosa che sento di roverti dire. Frisk, quando Link e D abbiamo fuso le nostre anime insieme... Ah. Ok. Il controllo del nostro corpo in realtà era diviso tra noi due. Infatti prese in braccio il suo stesso corpo vuoto e senza vita e poi quando siamo arrivati al villaggio... Voleva anche che usassimo tutto il nostro potere. Fu io ad opporre resistenza e poi a causa mia noi... Beh, ed è così che divenne un fiore. Frisk, per tutto questo tempo mi sono pentito di quella decisione. Ecco perché ho sviluppato quella terribile visione del mondo. Lo uccidi. Lo sei ucciso. Ma adesso, dopo averti incontrato... Frisk, non mi pento più di quella decisione. Ho fatto la cosa giusta. Se avessi ucciso quegli umani, ne avremmo dovuto dichiarare guerra a tutta l'umanità e alla fine tutti sono diventati liberi, giusto? Mi fa stare ancora male sapere quanto tempo ci ha voluto. Quindi forse non si è trattata di una decisione perfetta. Ma non puoi pentirti delle scelte difficili tutta la vita, giusto? Beh, non ti mi sia rimasto così tanto da vivere. Ma non è questo il punto. Frisk, grazie per avermi ascoltato. Dovresti davvero andare con i tuoi amici adesso, ok? Oh, e per favore, in futuro, se dovessi rivedermi, fa conto che non sia io, ok? Voglio solo che tu mi ricordi in questo modo. Qualcuno che è stato tuo amico per un po'. Oh, e Frisk, fa attenzione nel mondo esterno, ok? Nonostante quello che pensano tutti non è un posto carino come qui. Ci sono un sacco di flauvi là fuori e non tutto può essere risolto semplicemente con la gentilezza. Frisk, non uccidere e non farti uccidere, d'accordo? È il meglio a cui puoi ambire. Beh, ci vediamo. Frisk, non è niente di meglio da fare? Va bene, allora vado. Amici, termina qui questo episodio di Undertale. Nel prossimo andrò là fuori, vedrò cosa mi attende. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito e ci vediamo alla prossima. Bye bye. Ciao.